L'apertura della stagione balneare in Sicilia quest'anno coincide con il giorno di Pasqua, ad annunciarlo un decreto dell'assessorato regionale alla salute pubblicato ieri in gazetto ufficiale. Dal 1 aprile partirà infatti il periodo di campionamento delle acque di mare fino a ottobre, mentre il prelievo di pre-campionamento dovrà essere effettuato nei 10 giorni prima dell'inizio della stagione balneare, dal 20 marzo fino a fine mese. Nel decreto sono elencati i tratti di mare balneabile e quelli vietati alla balneazione. Restano ancora numerosi i tratti di mare definiti nel decreto non balneabili a causa dell'inquinamento. A Sciacca, per esempio, non si potrà fare il bagno in un tratto nei pressi del Lido Salus, ma anche in un'area vicino al porto di San Leone ed Agrigento e in quello di Siculiana. A Palermo restano flimiti e bagnanti anche un tratto di mare della spiaggia di Vergine Maria, in via Messina Marine, il tratto che va dal porto della Bandita fino al Lido Limpo e quello compreso tra la fine del porto di San Terasmo e l'inizio di quello della Bandita. In alcuni tratti invece persiste il divieto di balneazione per motivi di sicurezza, come nel caso della località Grotta Azzurra a Taormina, a Milazzo, tra Calapepe e Punta Arrugo, o da Punta Iacce e Pietre Rosse. Stessa situazione nella nota località turistica Capo Calavà, a Gioiosa Marea, nella parte compresa tra la foce del torrente Calavà e la rocca di Capo Calavà. In provincia di Palermo divieto di balneazione per tratto non sicuro a Terrasini, nella zona Calarossa, al lato est della spiaggia di Magaggiari a Cinisi e per mezzo chilometro di spiaggia sul lungomare Cristoforo Colombo a Villa Grazia di Carini.